In questo video vi mostro come preparare delle bevande energetiche come quelle che usano gli sportivi. È una ricetta che ho preso da un sito di sport, è a base di limone in questo caso ma si può preparare anche con altri gusti, tutta naturale e con ingredienti sani, senza coloranti e conservanti. Questa ricetta è velocissima e semplicissima, pronta in cinque minuti, andiamo a vedere come si fa. Ciao! Gli ingredienti per preparare questa bevanda energetica sono dell'acqua, il sale, lo zucchero e dei limoni o delle arance. Andiamo a vedere come si prepara questa ricetta. Andiamo a tagliare il nostro limone e a spremerlo. Lo possiamo spremere già così. Andiamo ora a passare il succo del nostro limone con un passino. ora basterà ad aggiungere alla nostra acqua col succo di limone mezzo cucchiaino di sale e 4 o 6 cucchiaini di zucchero. 1, 2, 3, 4, 5. mescoliamo bene, facciamo sciogliere molto bene lo zucchero e il sale, dopodichè trasferiamo il tutto nella nostra bottiglia. E allora fai faccio? E adesso faccio? E allora, faccio? Alessane, faccio? Lo stiamo faccio? Falci! Perci? E allora? La stiamo abbiamo a fare una strada. E adesso faccio? Le nostre bevande sono pronte, la ricetta è finita. Ciao!